ciao ragazzi bentornati in un nuovo video oggi vi parlo di un oggetto fondamentale all'interno di ogni studio fotografico questo oggetto devo andare a costruirmelo quindi mi porterò con me durante questa lavorazione lavorazione però ci sono tante cose che devo fare oggi quindi è meglio che inizio per fare questo strumento di fondamentale importanza ci servono alcune cose che adesso andiamo a vedere cosa abbiamo e cosa non abbiamo allora lo strumento di fondamentale importanza è lassù prima cosa un bel tavolone di legno fondamentale seghetto alternativo della vernice nera e dei ganci di qualche tipo quindi dobbiamo andare a fare la spesa musica 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 bene allora di quello che cercavo non ho trovato niente quindi dovrò un po' arrangiarmi con quello che abbiamo in ufficio comunque non mollo ho trovato corriere la sera che non mi aiuterà a costruire nulla ma è una cosa interessante musica mica male eh foto tutta pagina musica 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 Certo di dipingere con vernice nera con la maglietta bianca addosso sono proprio un genio. Ok finito di verniciare, adesso questa tavola si deve un po' asciugare, è calda quindi non ci metterà molto, in questo lasso di tempo io preparo le altre cose che mi servono. Qualcuno di voi magari ha indovinato che cosa sto facendo o pensa di aver indovinato quello che sto facendo. Sto facendo un lavoro di una precisione proprio ridicola, tutto tranne che preciso però fa niente, faremo finta di nulla. Sono abbastanza convinto che qualunque fagnagname vedrà questo video smetterà di seguirmi all'istante, però vabbè, ho fatto del mio meglio. Beh ok, va rifinito un po', va ritoccato qua e là, però tutto sommato... sono abbastanza contento del risultato. Adesso mi merito di mettermi la camicia da boscaiolo, me lo merito anche perché è venuto un po' più freddo. Bene, adesso scopriamo che cos'è questa roba. allora è qui dentro da un anno, esatto, oggi, ed è arrivato l'ora di montarlo. Allora so esattamente che è qui da un anno perché è il regalo di compleanno di Carlo, dell'anno scorso. visto che adesso è il compleanno di Carlo e deve aprire il regalo di quest'anno, forse è il caso di montare il regalo dell'anno scorso. Che dite? Ancolo qua! Quale studio fotografico non ha bisogno delle freccette? FONDAMENTALI